Promossa dall'associazione Timagora in collaborazione con la radio Gela Express e patrocinata dal comune si terrà ai prossimi 11, 12 e 13 novembre in piazza Umberto I la festa di San Martino previste esposizioni di prodotti enogastronomici e degustazioni di prodotti tipici un insieme di odori e sapori. Saranno coinvolte tutte le associazioni di categoria artigianato, pesca, agricoltura e commercio. Saranno 20 gli stands che saranno allestiti. Gela è molto sentita questa festa, soprattutto dalle famiglie, però non c'era un evento per fare partecipare le famiglie anche nel nostro centro storico, così da questa idea abbiamo sviluppato un progetto che è stato immediatamente accolto dall'amministrazione. Quindi non faremo solo un giorno ma faremo tre giorni perché siccome l'11 novembre cade di venerdì allora perché no fare anche il proseguire con sabato e domenica in modo che c'è più spazio per partecipare agli eventi. Nasce da questo quindi da questa idea, l'amministrazione l'ha accolto immediatamente e quindi eccoci qua già a una settimana dall'inaugurazione a presentarla alla città. Non è una fiera, non è un mercatino, deve essere comunque una festa, infatti ci saranno comunque delle balli, canti, folcloristici locali e addirittura non saranno su un palcoscenico ma in mezzo alla gente, fra di noi, tutti insieme a fare una festa a modo di buffet. Durante l'altro giorni ci saranno sfidati di moda ed esibizioni canore. È un'iniziativa che tende appunto a dare vita al nostro centro storico e alla città mettendo insieme aziende e peculiarità del territorio che meritano di essere valorizzate. In particolare è sul vino che loro stanno puntando, vedremo poi nel concreto come si evolverà la manifestazione ma sicuramente ha tutte le caratteristiche per diventare un evento che si può ripetere ogni anno alle stesse date e con la possibilità poi di allargarlo al territorio.